Allora, siamo qui in attesa di ricevere l'espoglieco dell'urna del Papa Celestino V per questa settimana celestiniana qui a Saltara e questa iniziativa da parte della parrocchia di San Giovanni Apostolo di Saltara insieme con il patrocinio dell'amministrazione comunale nasce dalla esigenza di rivedere un attimino e di riospitare l'espoglie del Santo Padre, Papa Celestino V, al quale nella nostra comunità è dedicata la chiesa principale del nostro paese. Si tratta di San Pier Celestino, ci sono delle documentazioni storiche e grafiche che documentano la presenza del Santo qui nella nostra comunità di Saltara per oltre due secoli, dal 1500 al 1750. Saltara faceva parte di questa provincia di Romagna, dei Celestiniani, insieme alle città di Gubbio, di Fossombrone, di Urbino, ma anche l'altra parte della vecchia Flaminia, quindi stiamo parlando delle città di Frenza, Cesena, Bologna, Forlì. Noi ci auguriamo che questo momento sia un momento di riflessione, una settimana importante che è vissuta in modo particolare dal punto di vista spirituale e da quello che è il mondo religioso e cattolico, ma anche dal mondo della società civile. Noi riteniamo che questo sia un momento molto importante, perché questi momenti servono un attimino a ripercorrere e a farci rivivere quella che è la storia della nostra paese, del nostro comune e questo sarà senz'altro un messaggio molto importante per tutti i giovani che impareranno a conoscere San Pier Celestino e io mi auguro che allo stesso tempo tanta altra gente venga dai comuni e dai paesi vicini e io mi auguro che il comune di Saltara sia degno per ospitare tutti quanti vorranno venire a Saltara in questa settimana. È una settimana ricca di manifestazioni, sia dal punto di vista religioso, come dicevo, che anche dal punto di vista civile. Quindi noi ci auguriamo che tutto vada per il meglio e auguro buon lavoro a tutti. Grazie. 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 Tra le della piazza sotto le mura, così poi sarà più facile disporsi in processione. Quindi preghiamo di venire da quest'altro lato della piazza, spostarsi di qua, sotto le mura. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.